Radio Bruno Adesso stiamo raccogliendo anche molte impressioni favorevoli, abbiamo cercato di creare un evento che possa richiamare, sensibilizzare anche chi non è del settore, anche chi non è una persona incredibilmente preparata, che conosce le auto d'epoca. Vogliamo avvicinare un pubblico nuovo perché questo è un campo dove si parla del passato ma soprattutto si guarda al futuro. Ogni anno c'è sempre più impegno, c'è sempre più gente che arriva da tutte le parti d'Italia, stiamo veramente diventando, e anche dall'Europa perché so che ci sono tante persone che ci stanno raggiungendo anche dal nord Europa. Sì, è la sesta edizione, questi sono eventi che hanno bisogno di un tot di anni per affermarsi, la competizione è alta, però noi abbiamo una cosa che gli altri non hanno, Modena è la capitale della Motor Valley nel mondo. In 50 km tra Modena, Bologna e Parma, 60, c'è il meglio del motorismo, due e quattro ruote, quindi noi come posso dire viviamo in una terra straordinariamente privilegiata, dobbiamo solo venderle e comunicarle al meglio.